Per Ortona è il sesto sbarco di migranti da inizio anno. Il prossimo è previsto intorno alle 4 del mattino di mercoledì con 128 profughi soccorsi dalla nave Ocean Viking dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea. Per l'accoglienza e la gestione delle operazioni che seguono l'attracco in banchina entrerà in funzione l'area in contrada Tamarete. Una volta giunti nel porto i migranti saranno visitati dai medici della sanità marittima, aerea e di frontiera direttamente sulla nave per poi essere trasportati in contrada Tamarete dove i 128 migranti saranno controllati e identificati. Dopo le attività di prima accoglienza i profughi saranno destinati ai centri assegnati, destinazione sulla quale, specifica il prefetto Gianluca Braga, siamo ancora in attesa di indicazioni da parte del ministero tramite la prefettura dell'Aquila. Siamo certi che con questo nuovo allestimento, ha detto il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, le procedure si svolgeranno in maniera più celere e ordinata. Tutto a vantaggio dei migranti che, dopo un viaggio estenuante al limite della sopportazione umana, troveranno una sistemazione più agevole alle loro esigenze. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato la protezione civile per il supporto nell'allestimento della zona di accoglienza e la prefettura per il coordinamento, ha detto Castiglione. Sempre puntuale. Grazie a tutti.